E la nostra voce correrà, alziamo le braccia, in fretta si va, con Gesù non siamo soli mai Ciao a tutti, io sono Ilegna, io sono Esther, questa è la nostra prima GMG Siamo super emozionati di vivere questo momento di preghiera con tutto il resto del mondo Vogliamo vivere questo momento senza alcuna accettativa Siamo a Campo da Grazia con Chiara e Francesca della diocese di Lamezia Terme E ci stiamo preparando a vivere la veglia con Papa Francesco Come vi sentite prima di questo appuntamento così importante? Siamo emozionate, molto emozionate perché c'è tanta gente, tanta gioia Ed è bello vivere questi momenti in preparazione di questa alla veglia Ciao a tutti, noi siamo Esther e Ilenia La veglia di sfidere sera è stato un momento bellissimo È stato caratterizzato da danze, canti, una serie di giochi di luci bellissimi Ma la cosa più bella e più importante è stato il fatto che tutti i giorni siamo stati uniti in un momento di silenzio E l'unica lingua che abbiamo parlato è stata la lingua della fede Il Papa ha sottolineato che nel mondo nulla è gratis tranne l'amore per Dio Grazie Grazie a tutti.